Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano partendo da Catania dove un uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale ha infatti speronato l'auto della polizia ferendo anche due agenti. Vediamo il servizio. Personale delle volanti transitando per viale Nitta ha notato un'auto che effettuava più giri della rotatoria posta all'incrocio con via Capinera. Visto tale comportamento sospetto, gli operatori hanno intimato l'alta al conducente ma questo, piuttosto che fermarsi, ha cercato di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente dell'auto ha tentato di speronare la volante danneggiandola e ferendo gli agenti dell'equipaggio. Giunto su via Lenitta, il fuggiasco ha perso il controllo della propria autovettura andando a finire fuoristrada, proseguendo poi la fuga a piedi. Dopo un breve tratto però è stato raggiunto e bloccato nonostante la strenua resistenza opposta. All'identificazione è risultato essere un pregiudicato catanese addosso al quale, dopo una perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico e arnesi atti allo scasso, tutto immediatamente sottoposto a sequestro. Dai successivi accertamenti è anche emerso che l'auto utilizzata era stata oggetto di furto denunciato quella stessa mattina. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e indagato in stato di libertà per i reati di riciclaggio, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'auto è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario dopo averlo preventivamente rintracciato. Restiamo a Catania. Controlli dei carabinieri nel rione San Cristoforo. Sono stati sequestrati 4 cavalli. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante sono entrati in azione unitamente a una task force composta da pattuglie della CIO del XII Reggimento Sicilia, NAS di Catania e personale dell'ASP Dipartimento Veterinaria. Obiettivo del servizio? Contrastare le violazioni sulla normativa inerente alla custodia degli equini, nonché prevenire l'organizzazione di corse clandestine durante le festività natalizie, fenomeno molto diffuso nella provincia etnea. In tale contesto è stato quindi predisposto un mirato e articolato controllo nei confronti di un edificio adibito a stalla, sito in via Barcellona, nel quartiere di San Cristoforo, una scuderia piuttosto nota nell'ambiente. Effettivamente, avuto accesso ai locali, è stato subito rilevato come all'interno fossero stati ricavati quattro piccoli box di circa 9 metri quadri cada uno che custodivano altrettanti equini. In particolare, tre cavalli adulti, uno dei quali è risultato essere un puro sangue inglese dal valore stimato di almeno 50.000 euro. Presenti, al momento del controllo, due uomini che, pur dichiarandosi proprietari dei cavalli e dell'edificio, non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione sulla stalla che è risultata priva delle necessarie autorizzazioni e pertanto ritenuta illegittima. Dopo gli accertamenti di natura amministrativa, si è poi passati a verificare sia la presenza di farmaci che le condizioni infrastrutturali dello stabile. Nel frangente, all'interno di un armadietto, i carabinieri e i veterinari dell'ASP hanno recuperato una confezione di bentelan iniettabile, farmaco che può essere somministrato agli equidi solo da personale sanitario. Inoltre è stata appurata l'assenza dei requisiti minimi sanitari e strutturali per garantire il rispetto della natura etologica degli equini. In particolare, l'edificio, oltre a essere privo di paddock utili a consentire il movimento all'aria aperta degli animali, non disponeva dei locali infermeria o di eventuale quarantena. Ancora, i tetti presentavano infiltrazioni di acqua, i box erano soppalcati e quindi privati di ulteriore volume e le ridotte dimensioni delle finestre, senza infissi, non consentivano il necessario ricambio dell'aria. Per tali ragioni, i due titolari identificati in un 76enne e un 36enne di Catania sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Di conseguenza, i quattro cavalli sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati a un maneggio nel Messinese con le previste autorizzazioni, il più vicino ad aver fornito la propria disponibilità, in modo da interrompere con immediatezza le gravi sofferenze cui erano sottoposti. I titolari degli equini e della scuderia sono stati infine sottoposti a ulteriore sanzione amministrativa per complessivi 4.400 euro per mancanza delle previste autorizzazioni, mancata conservazione dei modelli di accompagnamento degli equini e mancata registrazione del passaggio di proprietà degli animali. Restiamo nel Catanese, ci spostiamo però virtualmente a Motta Sant'Anastasia dove i carabinieri hanno tratto in arresto tre persone per spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Motta Sant'Anastasia hanno arrestato in flagranza di reato tre cinesi di 50, 37 e 32 anni per spaccio di sostanze stupefacenti durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 50enne che stava scontando una condanna per maltrattamenti in famiglia e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I militari dell'arma hanno sequestrato 400 grammi di metanfetamina, alcuni grammi di marijuana, circa 250 euro in contanti e un tacquino con nominativi e cifre, tutto scritto in cinese, che secondo gli investigatori sarebbe riconducibile alla contabilità dell'attività di spaccio. Il GIP ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per il 50enne e gli arresti domiciliari per il 32enne e il 37enne. Un arresto e due denunce invece da parte dei carabinieri a Ragusa. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno eseguito mirati servizi di controllo del territorio tesi a prevenire e contrastare i reati in genere, controlli che hanno portato all'arresto di una persona e alle denunce a piede libero di altre due. L'arrestato, un 36enne ragusano, già responsabile del furto avvenuto di recente presso il chiosco di Piazza della Repubblica, sito a Ragusa Ibla e per questo agli arresti domiciliari, è stato associato al carcere di Ragusa su ordinanza emessa dal locale tribunale. Il provvedimento è scaturito a seguito di un'articolata attività di indagine condotta dai militari dell'arma, che avevano ricostruito come in diverse occasioni il 36enne fosse evaso dagli arresti domiciliari per rendersi responsabile di nuovi furti avvenuti sempre ai danni del citato chiosco. L'autorità giudiziaria, quindi concordando con le risultanze investigative dei carabinieri, ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, disponendo l'arresto del ragusano e il suo collocamento in carcere. La prima denuncia è invece scaturita da un intervento operato dai militari di pattuglia, quando una donna, notando che l'abbadante dell'anziano padre gli aveva sottratto dei soldi, aveva deciso di chiamare il 112. La gazzella, giunta sul posto, aveva appurato dalla richiedente che l'abbadante, una 55enne siracusana, nel corso del tempo aveva sottratto somme di denaro all'83enne da lei assistito. La figlia di quest'ultimo aveva installato delle telecamere nascoste in casa del padre e, sorpresa, la siracusana dei video non aveva esitato a contattare i carabinieri. La pattuglia, intervenuta subito sul posto, infatti, controllando la siracusana, aveva rinvenuto la somma di 150 euro, nonché sette gift card già riscattate per un valore di 750 euro, verosimilmente acquistate con i proventi dei furti. Inoltre, nel corso degli accertamenti, verificando gli ammanchi, è emerso che l'abbadante si era impossessata di una somma pari a circa 6.000 euro. In seguito a queste circostanze, la 55enne è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. I soldi rinvenuti sono stati restituiti al legittimo proprietario e le gift card poste sotto sequestro. L'ultima denuncia, infine, scaturisce anch'essa da un intervento effettuato dai militari di pattuglia, che proprio nella diacenza della caserma dell'arma di piazza caduti di Nassiria, avevano notato due uomini litigare vistosamente, fin tanto che uno dei due aveva colpito l'altro. I due, padre e figlio, un 64enne e un trentenne ragusani, come successivamente accertato dai carabinieri, non erano in buoni rapporti e avevano litigato per questioni legali. Litigio che è degenerato con un pugno ai danni del 64enne, che fortunatamente non ha riportato danni, ma che per la violenza del gesto ha determinato l'intervento dei militari, con il conseguente deferimento in stato di libertà del trentenne per percosse. Controlli delle forze dell'ordine, in questo caso della Polizia, anche a Gela. Il bilancio parla di due persone arrestate e altre 12 denunciate per vari reati. Vediamo quali. La Polizia di Stato, a Gela, ha tratto in arresto due persone per porto abusivo di armi in luogo pubblico, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, con contestuale sequestro di droga e della somma in contanti di 20.000 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. 12 invece, quelle denunciate a vario titolo per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, porto di oggetti atti a offendere, porto abusivo di armi, minaccia in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altre violazioni. I predetti servizi straordinari di controllo del territorio interforze ad alto impatto per la sicurezza delle aree urbane contro il degrado urbanistico e sociale sono stati eseguiti in ossequio alle direttive impartite dal prefetto di Caltanissetta nell'ambito delle linee di indirizzo fornite con circolare del Ministro dell'Interno. Nel complesso sono state controllate 231 persone, di cui 69 con pregiudizi di polizia e 140 autoveicoli, elevate 21 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, eseguite 24 perquisizioni e 9 sequestri. I predetti servizi interforze, definiti con ordinanza del questore e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli in talune aree del territorio, sono stati eseguiti con l'impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Taormina, Mauro Romano ci parla del trasferimento temporaneo della delegazione comunale della frazione di Trappitello. Oggi siamo con l'assessore Alessandra Cullurà, si stanno facendo grandi preparativi per il trasferimento della delegazione comunale di Trappitello. Ecco, dove ci troviamo, assessore? Allora, questa sarà la nuova sede della delegazione di Trappitello, in attesa della ristrutturazione dei vecchi locali affinché si possa trasferire l'asilo. Quanto tempo contate che durerà questo trasferimento? Noi speriamo di poter tornare con la delegazione in linea nel momento in cui le scuole verranno definitivamente riportate a Santa Filomena e creare un unico polo scolastico. Quanto sono costati i lavori di trasferimento? Diciamo quasi zero perché abbiamo risparmiato soprattutto sull'affitto, in quanto la retta che noi paghiamo qua mensilmente, in un anno pagavamo solo un mese di asilo in via Leoncavallo. E quindi è stato molto conveniente anche il trasferimento. Quali saranno le attività che si svolgeranno in questa delegazione? In questa delegazione ovviamente ora faremo un calendario facendo sì che tutti gli uffici che si trovano a Taormina come l'Acquedotto, l'Atari, l'Imu, possono essere anche portati qui anche una volta a settimana, massimo ogni due settimane, per poter dare al cittadino la possibilità anche qui di sbrigare le proprie pratiche. Parliamo adesso di presepi viventi, uno nello specifico quello di Custonaci che ha registrato 5.000 visitatori, o meglio, oltre 5.000 visitatori in pochi giorni. Oltre 5.000 visitatori in pochi giorni, dopo un'interruzione di tre anni, dovuta prima alla pandemia e poi a problemi legati al dissesto geologico e alla sicurezza, è tornato il suggestivo presepe vivente di Custonaci nel Trapanese, organizzato dall'Associazione Museo Vivente e giunto alla 39esima edizione. Il sito, che si trova su un costone roccioso sovrastante la Grotta Mangiapane, è stato oggetto di un meticoloso intervento di consolidamento e messa in sicurezza. La Grotta Mangiapane è un antico insediamento preistorico che dal 1983 ospita, durante le feste di Natale, il presepe vivente, dal 2006 patrimonio dei beni immateriali della Sicilia. Questa edizione, ha dichiarato il sindaco Fabrizio Fonte, si caratterizza con la logica del borgo, essenziale per rivendicare l'identità storica della città legata al celebre presepe vivente di Custonaci, che è un viaggio esperenziale alla scoperta del passato rurale dell'isola. Puntiamo a valorizzare tutto il territorio, ha aggiunto il primo cittadino, non è un caso che si parta dal centro storico con un villaggio enogastronomico natalizio e spettacoli musicali e artistici. Da lì i visitatori avranno la possibilità di conoscere luoghi della tradizione culturale e religiosa, come il famoso santuario dedicato a Maria Santissima, il museo annesso e il centro storico, ha concluso il sindaco di Custonaci. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS